Due barconi con oltre 1100 persone in queste ore nel Mediterraneo alla volta dell'Italia. Si aggiungeranno ai 47.000 immigrati già giunti da inizio anno, quattro volte più che nello stesso periodo del 2022. E col miglioramento del meteo si prevede un aumento esponenziale già dalla prossima settimana. Questa volta l'emergenza migranti rischia di essere vera. Il governo si prepara anche con le ripartizioni sui territori e alla Basilicata potrebbero toccare tra i 4 e i 5 mila arrivi. E per essere pronti a questo scenario è un rapido divenire oggi presso la prefettura di Potenza tavolo di lavoro con il commissario nazionale per l'emergenza e migrazione, i prefetti, la regione e i comuni. Anche la Basilicata è chiamata a fare la propria parte e a intraprendere iniziative tali da garantire l'accoglienza di questi migranti. Noi possiamo dire con certezza che ad oggi sono più di 47-48 mila gli sbarchi dal primo gennaio ad oggi. Dovessimo fare una proiezione annuale andremo su cifre significative di 400 mila. Condivisione delle scelte fatte anche con poteri derogatori, con regione e comuni. Evitare alte concentrazioni e centri molto piccoli. Ma nessuno potrà sottrarsi. In Basilicata le presenze potrebbero triplicarsi rispetto ad ora. Ad oggi oltre 2000-2069 tra Potenza e Matera i richiedenti asilo presenti. Possiamo anche dire che il criterio di riparto che viene utilizzato è un criterio di riparto che tiene conto della popolazione. Il rapporto tiene conto all'incirca di una percentuale complessiva ad oggi dell'1 e qualcosa per cento.